Cosa possiamo dire ai giovani per rimanere in una valle come questa? Allora, è sufficiente che i giovani sappiano che cosa c'è in Val Bormida. Le faccio la mia esperienza da motociclista, se uno vuole girare in moto, cosa c'è meglio della Val Bormida, della Taranga? Praticamente nulla al mondo, basta che lo si conosca. E poi parliamo di bici elettriche, con la bici pedalata assistita, uno può venire dal mare, si fa il melogno, viene al lago Dosiglia, torna, insomma, è una meraviglia, basta che sappiano che cosa c'è. Quale stimolo possono avere per tornare e costruire qualche cosa? Le faccio un esempio che ho visto proprio in questi giorni, ha aperto un bed and breakfast che noleggia motociclette. Ecco, questo è un esempio dei mille che possono mettere in campo i giovani che sono assolutamente bravi a inventarsi cose intelligenti e efficaci. Ecco, i giovani hanno la capacità di leggere, proprio perché sono giovani, queste nuove tendenze. Al prossimo episodio